Ben trovate e ben trovati a tutti voi che seguite le numerose attività promosse dalla Fondazione Collegio San Carlo di Modena. Ringrazio il direttore, il professor Carlo Altini, per avermi invitato a fare con voi una breve riflessione attorno al terzo percorso di ricerca promosso dalla Fondazione dal titolo Socialità per un nuovo spazio pubblico. Si addice quanto mai riflettere su società, socialità in questi tempi di pandemia, da Covid-19 o coronavirus, perché indubbiamente quanto sta accadendo da alcuni mesi a questa parte, non solo in Italia ma in tutto il mondo possiamo dire, davvero mette a fuoco e mette a nudo una serie di concetti, di riflessioni elaborate nei secoli proprio riguardo al rapporto tra uomo e società e quindi sul tema della relazione, della interazione, della cooperazione, della conflittualità. E allora attraverso, come sempre si deve fare, i classici, alcuni autori, vengono alla mente, guardando il nostro tempo, alcune considerazioni di fondo. Siamo in parte reduci, in parte ancora dentro una situazione che è stata definita con parole inglese un po' a giro per tutta Europa e non solo, lockdown, chiusura, una chiusura totale per un certo periodo di ogni attività e una reclusione degli individui all'interno delle loro abitazioni ed una sospensione prolungata e pressoché totale della socialità. E quindi con lockdown viene in mente chiusura, questo significa appunto, e quindi una dicotomia che nel Novecento è stata riportata in auge dal filosofo Karl Popper, quella tra società chiusa e società aperta. Abbiamo assistito a, appunto, una società necessariamente chiusa, una società che è stata blindata e attraversata dalla paura. E sulla paura le riflessioni sono molteplici, riguardo alla radice paurosa della politica e dell'edificazione soprattutto del potere, chiaramente Hobbes, ma soprattutto alla vostra attenzione vorrei porre un autore meno noto, certamente meno noto rispetto a Hobbes, ma considerato cruciale da molti filosofi del Novecento, anche gli autori che ha vissuto una buona parte del Novecento, che è Guglielmo Ferrero, ha vissuto almeno la prima metà. Penso a questa opera, considerata da molti come jaspers, come politologi quali Maurice de Verger, Karl Friedrich, come un vero e proprio capolavoro su la genesi della società, la genesi appunto del potere. E Ferrero dice molteplici cose all'interno di questo libro, ma un paio di cose mi sembra siano particolarmente attinenti alla situazione che stiamo vivendo. Nel definire una civiltà, Ferrero dice esattamente, testuali parole, che la civiltà è per noi uno stato migliore, perché ci provvede di beni ignoti alla barbarie. Ma quali beni ignoti? Forse una maggiore raffinatezza dei gusti, una maggiore mitezza dei costumi, un senso più elevato della giustizia e dell'umanità. Ebbene, la civiltà, la civilizzazione è una, se non rimozione integrale, una marginalizzazione della paura che ciascuno di noi ha verso l'altro. Perché sempre in quest'opera, poco più avanti, Ferrero, in qualche modo rendendo più, ancora più esplicita l'intuizione obsiane, dice che l'uomo è la più paurosa delle creature, che trascorre la vita in mezzo ad ogni sorta di paura, ma pur vivendo così si distingue dagli animali perché aspira ad essere coraggioso. L'uomo è un essere pauroso che vuol vincere le proprie paure reali e immaginarie. L'uomo è ciò che domina su tutti gli altri animali perché è capace di costruire armi, ma proprio questa capacità rende anche timoroso l'uomo verso il proprio simile. Quindi la paura dell'uomo per l'altro uomo, quindi l'altro come pericolo. Eppure, dice sempre Ferrero, all'inizio di ogni nostra conoscenza c'è un atto di coraggio, cioè c'è un allontanamento della paura, una vittoria anche temporanea della paura per cui si varcano le colonne d'Ercole. La civilizzazione è ridurre il più possibile la paura, lo si fa edificando regimi politici. Il regime politico che abbiamo fortunatamente sperimentato negli ultimi decenni, almeno dalle nostre parti, è quello di un sistema politico in cui tendenzialmente non si ha paura dell'altro. Vige un sistema di norme, di regole, il più possibile poi interiorizzate in modo tale che il potere come coercizione non debba manifestarsi, esplicitarsi con eccessiva frequenza, per cui interagiamo sulla base non della paura ma semmai dell'interesse. Allora è interessante quanto è accaduto di recente, perché il virus ha chiaramente reso l'altro nuovamente una minaccia, un pericolo e quindi ha in qualche modo fatto regredire la società aperta verso una società chiusa, perché è entrato in circolo insieme al virus l'idea che chiunque altro è una potenziale minaccia. Tutto questo ha sicuramente portato, proprio per usare le categorie di Popper, verso una società chiusa, scrive Popper nel celebre opera La società aperta e i suoi nemici. Dice proprio che se noi sogniamo di ritornare alla nostra infanzia, se ci lasciamo tentare di fare assegnamento sugli altri, di essere in questo modo felici, se ci sottraiamo al dovere di portare la nostra croce, la croce dell'umanità, della ragione e della responsabilità, se perdiamo il coraggio e ci ritiriamo dalla lotta, allora dobbiamo renderci chiaro conto, spregiudicatamente, di quel che ci spetta. Noi possiamo tornare allo stato belluino, se invece desideriamo restare uomini non c'è che una sola via, quella che conduce alla società aperta. C'è un rischio di regressione al tribalismo avendo paura sistematica dell'altro e quindi le riflessioni di Ferrero, che per alcuni versi riccheggiano quelle di Hobbes, le riflessioni di Popper, che sono poi coeve, l'opera di Ferrero del 42 e quella di Popper del 45, ci segnalano come in effetti le società in cui abbiamo vissuto sino ad oggi abbiano raggiunto un primato non indifferente, cioè quello di non percepire il grosso degli altri come minaccia, tendenzialmente nessun altro come minaccia. E dall'altro canto dicevo, se l'altro è molto distante da me, io sono portato verso l'altro magari da interessi. Allora concludo con questa ulteriore considerazione. Ciò che ci attende da qui ai prossimi giorni, ai prossimi settimane, ai prossimi mesi è con fase 2, fase 3, una tendenziale appunto desiderata uscita dal lockdown, è il tentativo appunto di ritornare da una società che si è fatta chiusa ad una società aperta. Cosa sta muovendo questo? Chiaro, nelle piccole cerchie parentali e amicali sono gli affetti, ma ciò che può effettivamente dischiudere una società di medie, grandi, grandissime dimensioni è l'interesse. è quell'egoismo che però fa società. E allora qui viene in mente l'autore che vedete alle mie spalle, quell'altro capolavoro di fine Settecento, esattamente uscito in prima edizione nel 1776, che è La ricchezza delle nazioni, Adam Smith. E allora comprendiamo come questo filosofo, perché anzitutto è un filosofo morale, pur poi consegnato alla storia come indubbiamente un fondatore della scienza economica, ma di fatto si rendesse conto che la società si regge certamente nelle dimensioni piccole e private e sugli affetti, ma sussiste grazie ad una molla che è quella dell'interesse. Per cui celebre la frase che vi vado a leggere tratta proprio dalla ricchezza delle nazioni, in cui Smith dice non è certo dalla benevolenza del macellaio, del birraio e del fornaio che ci aspettiamo il nostro pranzo, ma dal fatto che essi hanno cura del proprio interesse. Noi non ci rivolgiamo alla loro umanità, ma al loro egoismo, e con loro non parliamo mai delle nostre necessità, ma dei loro vantaggi. Ecco, vedremo se in effetti sarà questa la molla che ci consentirà di tornare ad una società aperta e quindi a riconsiderare in altra ottica quello che è lo smitiano interesse, che non è affatto egoismo nel senso di un sentimento gretto e meschino, ma è un ingrediente fondamentale della socialità. Vi ringrazio. Grazie.